A quasi un mese dal 160esimo anniversario di Giovanni Pascale ci sono delle importanti novità. Ce le racconta il dottor Tortoriello. Buongiorno a tutti. Ci eravamo lasciati meno di un mese fa con il festeggiamento dei 160 anni del Pascale. Il 14 e 15 maggio, l'evento che è stato fatto qui all'Istituto, dove avevamo un po' anticipato che a brevissimo ci sarebbero state delle grosse novità in campo sia chirurgico che oncologico. E così è stato. Iniziamo con la prima, sicuramente una delle notizie più belle e più importanti, che è quello dello studio Mona Lisa presentato al congresso ASCO di Chicago di questo mese. Congresso internazionale dove maggiormente arrivano tutte le sperimentazioni più importanti, dove maggiormente si mettono i risultati ottenuti. Ebbene, su un campione di circa 2.000 pazienti, 6-700 sono state trattate qui da noi al Pascale. Parliamo di pazienti che hanno un CA al seno metastatico, pazienti giovani al di sotto dei 40 anni, anche negative, erpi negative. Ebbene, si è visto che in queste pazienti somministrando, oltre all'ormonoterapia che già adesso è attuale, un altro farmaco bersaglio che è il Ribociclib, che va a colpire delle cellule tumorali specifiche, si è avuto un miglioramento della prognosi della vita della paziente nel 70% dei casi trattati. Quindi parliamo di giovani donne metastatiche, cioè dove già il tumore è in fase abbastanza avanzato. Un bellissimo risultato. A breve avremo anche altri risultati che porteremo, che è un altro studio che sta in itinere, che è quello sempre sul CA metastatico di donne di età un po' più avanzata, dove si stanno usando farmaci combinati, tra cui il pertuzumab e il trastuzumab più la chemioterapia. E questo è uno studio che a breve ci darà delle altre grosse soddisfazioni. Ebbene, il Pascale in questo studio è stato uno dei gruppi principali della ricerca. Oltre al tumore al seno, altre due novità importanti che volevamo portare in evidenza sono quella dell'urologia con l'uso di un robot di precisione, quindi una chirurgia di precisione, con quella che viene chiamata biopsia fusion sulla prostata, cioè tramite il robot si arriva direttamente sulla lesione e si va a prelevare solo il tessuto ammalato e quindi una chirurgia di precisione in quanto non si va a togliere più tessuto che non sia tessuto ammalato. L'altra notizia importante è quella della protonterapia, cioè ci sarà un ulteriore sviluppo in campo oncologico-radioterapico con questa nuova tipo di apparecchiatura che sarà la seconda in Italia e una delle primissime in Europa e che sarà messa con i nuovi fondi dati all'istituto Pascale molto probabilmente in istituto anche presso l'altro centro che si sta per attrezzare che è quello della Scalesi del centro storico di Napoli. Quindi come vediamo l'istituto Pascale è sempre più all'avanguardia e oltre alle varie tecniche ci sono tutti gli stimoli giusti per poter fare sempre meglio e per dare una migliore assistenza ai pazienti campani che finalmente possono parlare di una medicina e di una chirurgia di eccellenza nel campo oncologico. Grazie